Musica Lei è titolare della parrucchieria Queen? Sì, ho aperto da pochi giorni Allora, lei ha aperto questa sua parrucchieria qui nel quartiere Santa Maria di Catanzaro ma la particolarità è che ha avuto il coraggio di aprire in piano Covid Come le è venuta questa idea e da dove le viene questa forza? È una passione, quindi se una persona vuole realizzare i propri sogni bisogna fare di tutto, anche affrontando le difficoltà Lei aveva questo progetto da tanto tempo nella sua mente? Sì, sì, io ho studiato, ho frequentato vari corsi, ho lavorato anche in vari saloni però il mio sogno era quello di aprire un'attività mia Quando è arrivato il Covid a marzo, nel primo lockdown non si è scoraggiata, ma anzi ha continuato a portare avanti questo progetto Insomma, come nasce l'idea di questa parrucchieria e come mai non ha deciso magari di rimandare l'apertura per paura? Guardi, io penso che anche durante il Covid la vita continua quindi non è giusto fermarsi alle prime difficoltà Per fortuna adesso abbiamo la possibilità di continuare a lavorare e diciamo che mi sono un pochino buttata, diciamo, però era il mio sogno e quindi ho voluto continuare lo stesso Come vede il suo futuro? Ha paura in un lockdown più duro? Oppure spera in un 2021 senza Covid? La paura c'è sempre, però si spera ovviamente che la situazione migliori Che messaggio vuole lanciare a chi magari ha paura di aprire un'attività a chi magari scoraggiato invece sta chiudendo un'attività? Allora, io voglio dire a tutti i giovani soprattutto di non fermarsi, di studiare, di andare sempre avanti perché è importante realizzarsi nella vita anche non pensare mai che sia troppo tardi perché c'è sempre una possibilità in tutto Lei ha avuto coraggio ma ci sono insomma tantissime attività anche magari di altri settori che si stanno ribellando, stanno chiudendo Se magari tra qualche tempo si facesse una stretta anche sulle attività della sua categoria lei come la prenderebbe? Sicuramente sarebbe dura, però si spera nel meglio che possa finire Come stanno andando i primi giorni della sua attività? Benissimo, il lavoro c'è per fortuna e si va avanti Grazie a tutti Grazie a tutti